Senti te, voglio solo attraversare il tunnel. Senti te, voglio solo attraversare il tunnel. Ok, ok, mi arrendo. Non farmi male. Visto? Non siamo dei mostri. Dillo anche agli altri. Attenzione, la demolizione programmata del poste 520, ordinata da DC, inizia adesso. Non saranno di rilassare... Che accidenti succede? Regi! Forza Regi, rispondi! Oh mio... Questo era un ponte. Arrivo Regi. Andiamo, bomba blu. Fai la magia. Non riuscirò mai a passare da qui. Non riuscirò mai. Qua è la pena tentare. Ok, mondo, avanti così. Su, con calma. Su, con calma. Su, con calma. Su, con calma. Reggie. Delcy, cosa è questa storia che tu e Reggie siete partiti per Seattle? Non è un gran momento, Betty. Ok, ma sii prudente. E divertiti. Sarà fatto, ciao Betty. Mantieni il controllo. Esistete al senso, è quasi passato. A quando finisci, pompe maledetto? No. 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 Oddio il pullman! Raggi! Raggi! Delsin! Dammi una mano! È una specie di braccio da lanciatore. Delsin! Ok, va bene. Andiamo. Ci sono... Grazie per la mano. Guarda qua. Ah, stai imparando a controllare i tuoi nuovi sintomi. Già. L'unico inconveniente che c'è è che... No, non mi viene in mente nulla. È una figata assurda. Davvero? Nessun problema? E qui i tizi armati fino ai denti che ora vogliono farti male? Molto male. È un problema? Sì. Ascolta, per quanto ne so potremmo anche superare la loro sorveglianza, perché tu non sei un normale bioterrorista. Normale? No, no, se intendi normale come col greggio di pecore tutte in fila per farsi ispezionare. No, Reggi, non sono normale. Hai visto cosa ho fatto sul ponte? Quei tizi li spazzo via! Senti, perché non proviamo a passare quei posti di blocco senza dare nell'occhio? Dopo sarà più semplice muoverci in città. D'accordo. Bene. Facciamo come vuoi tu, basso profilo.